Oggi siamo in uno degli ambulacri del Chiostro Grande, detto anche Chiostro di Michelangelo, della sede museale delle Termini di Ocleziano, una delle sedi del Museo Nazionale Romano. In questo contesto sono esposte più di 200 opere scultore. Abbiamo selezionato 15 opere particolarmente significative per farle oggetto di intervento e di manutenzione straordinaria e restauro.